A Bruzzo Civico si conferma nella coalizione di Americo di Benedetto percorrere queste elezioni amministrative all'Aquila. Perché la scelta di esserci anche all'Aquila? L'Aquila è il centro più importante a livello regionale perché è il capoluogo di regione. È il centro dove anche si vota per queste amministrative. E insieme all'Aquila, a Bruzzo Civico, è presente anche in altre cinque realtà importantissime, quindi da Avezzano, Brungellacu, ma anche nelle altre tre province, a Teramo con Martinsicuro e Tortoreto, a Pescara con Spoltore e a Ortona con Succhieti. Quindi è un movimento civico regionale che già da anni è sul territorio, abbiamo rappresentanti in ogni provincia, in tanti comuni e quindi l'Aquila era per noi un tassello importante. Abbiamo allestito un'ottima squadra che sicuramente darà grande supporto per la vincita del candidato Americo di Benedetto, ma anche grandi soddisfazioni a noi perché i 32 candidati sono fortemente motivati a fare bene e quando c'è la motivazione e c'è la passione arrivano anche i risultati. Che squadra è quella messa in campo per l'Aquila da Abruzzo Civico? Un investimento che tra l'altro questo movimento sta facendo sul territorio aquilano. È una bella squadra, una squadra fatta di persone diverse che vengono da ambienti diversi, che hanno come obiettivo comune di impegnarsi per i cittadini senza ideologie politiche alle spalle. Questo è un passaggio molto importante perché c'è bisogno di un riavvicinamento del cittadino ai beni comuni, deve tornare il cittadino ad innamorarsi della propria città, soprattutto di una città bella come l'Aquila che purtroppo ne ha passate tante ed ha bisogno oggi di una coalizione forte, di un gruppo forte che sia in grado di presentare soprattutto idee, proposte e progetti per rilanciare questo territorio. Qual è il valore aggiunto della squadra? Che sono civici e che hanno tutte le competenze necessarie per poter partecipare attivamente alla vita della città, per poter soprattutto ascoltare i cittadini, perché sono cittadini come gli altri che hanno deciso però di impegnarsi in politica e perché vogliono tornare a far politica vera, quella politica che è fatta di amore per il territorio, di amore per i cittadini, di amore per le risorse storiche, artistiche, naturali ed enogastronomiche di cui l'Aquila e l'Abruzzo sono ricche. Ecco perché Abruzzo Civico punta ad un civismo vero, non ad un riciclo dei cosiddetti cinici, come li chiamiamo noi.